Una domanda che tutti ci siamo chiesti nella vita, perché c'è tanto male e sofferenza nel mondo? Giuseppe, ma è Dio che ha creato il male? E se è Lui che lo ha creato, ma come è possibile che Dio permette bambini innocenti a morire, per esempio, nei disastri naturali? Come è possibile? Dio non ha creato il male, ma Dio ha dato agli uomini la scelta di scegliere tra bene e il male. Gli uomini scelgono spesso volte, spesso, non sempre, scelgono il male, le guerre, le sofferenze, il crimine, gli aborti, e scelgono il male. E gli aborti sono come i genziani che buttavano i bambini degli ebrei ai coccodrilli e oggi i coccodrilli sono gli aborti. E no, non è Dio che crea il male, infatti la Bibbia dice che Dio ha dato questo mondo agli uomini, dice che il cielo appartiene a Dio, ma la terra appartiene agli uomini. Va bene, infatti Giacomo 1, 16, 17, dice che ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre. Quindi Dio può fare solamente cose buone. Ora, Dio ha dato la terra agli uomini. Va bene, vediamo Salmo 115, 16, dice che i cieli sono del Signore, ma la terra l'ha data agli uomini. Dio sta a vedere cos'è che faremo con questi doni. Genesi 1, 28, Dio dice, Dio li benedì ad Amedeva e disse, moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate e su tutto. E allora la terra appartiene agli uomini. E allora da cosa viene il male? Il male viene dagli uomini. Quando hanno crucifisso Gesù non è Dio che ha scelto di crucifisso il suo figlio, è stato il mondo. E gli uomini che scelgono? L'uomo sceglie di fare la guerra, di fare la pace, di amare, di odiare. E il cuore dell'uomo che non è rigenerato, la rigenerazione solo in Cristo è possibile. E se non c'è la rigenerazione che non cambia il motore dalla macchina che è fuso, la macchina non funziona, deve cambiare il cuore. Dal cuore proviene tutto il bene e tutto il male. Quando dico cuore dico l'anima, i sensi, il nostro spirito, le nostre scelte. Quindi avendo capito che il bene e il male decidiamo noi, siamo liberi a vita, non è che Dio ci obbliga a fare adulterio contro la moglie o a picchiare una persona o a fare una rapina. Non è Dio. Siamo noi. È Dio però vuol vedere cose che scegliamo. E allora adesso c'è l'ultima scelta. Scegliere Gesù che sappiamo che ha adempito le profezie, figlio di Dio e che è l'unico che può salvarci. Oppure scegliere il mondo, seguire il mondo e morire col mondo.